Grazie, allora oggi vorrei parlarvi di alcune considerazioni, alcuni pensieri che io ho sviluppato in questi anni, sono ormai dieci anni che Venere.com è stata venduta, è stata ceduta a Expedia, partita come piccolissima start-up, anzi in realtà non era nemmeno una start-up, era un gioco, come diceva il video precedente, era un gioco che noi avevamo iniziato, io e tre colleghi dell'università di fisica dove studievamo, perché avevamo scoperto una cosa che si chiamava, che si chiama ancora tuttora internet. Internet a quell'epoca lì, nel 1995, non esisteva nelle case, esisteva soltanto all'università. A fisica l'INFN aveva portato, aveva una rete che collegava le università con i centri di ricerca e con i laboratori, per esempio quello del Gran Sasso, di cui abbiamo sentito stamattina, anzi sì, prima scusate, e quella rete noi l'abbiamo incominciata a pensare come strumento per sviluppare altro. Ci siamo guardati intorno e abbiamo incominciato a pensare che sarebbe stato fico, sarebbe stato bello, sarebbe stato divertente fare un'altra cosa e quindi ci siamo inventati quella cosa che poi è diventata Venere.com, ossia un portale di prenotazioni per alberghi. Oggi però non voglio parlarvi di questa storia, che è una storia molto bella, molto intensa, molto anche grande, ma voglio parlarvi un pochino di quello che è avvenuto dopo, cioè dopo aver venduto quell'azienda che era diventata nel frattempo molto molto grande, io mi sono trovato in qualche modo dall'altra parte, cioè mi sono trovato a parlare con altri imprenditori, con altri ragazzi non ancora imprenditori, con altri inventori, innovatori, chiamateli come volete, che volevano in qualche modo fare il percorso che avevo fatto io insieme ai miei ex soci ormai e sviluppare qualcosa di nuovo. Volevano per esempio essere finanziati, volevano dei consigli, volevano delle strategie, delle idee, volevano una valutazione di quella che era la loro idea. E quindi diciamo questo è stato un percorso lungo, sono dieci anni ormai che io mi trovo a vedere startup e quindi diciamo ho cercato anche di elaborare una serie di idee su come valutare una startup, che è una cosa difficilissima. Come si fa a capire se un'azienda, o meglio quella che ancora non è un'azienda, poi potrà avere successo negli anni successivi. Le cose che possono andare storte sono infinite. Come faccio io a valutare sulla base di un'idea, sulla base di un prototipo, sulla base di persone che mi trovo davanti? Ecco allora io credo che sia importante intanto capire che cos'è quella che si chiama innovazione. Sappiamo sempre che, diciamo diciamo sempre, si dice sempre che le startup sono aziende innovative. C'è anche un registro delle aziende innovative che sarebbero le startup. Ecco io credo che questa sia una definizione un pochino tricky, cioè un pochino misleading, diciamo così, cioè che porta un pochino fuori strada. Le startup sono aziende in realtà che cercano un modello di business che potenzialmente porti l'azienda a crescere molto. Questa crescita impetuosa che le startup cercano, perché all'inizio non c'è niente, quindi bisogna semplicemente provare a vedere se la cosa funziona, è un qualcosa che è possibile perché si cerca un modello che sia ripetibile e scalabile. Questa è una definizione diciamo abbastanza standard di startup. Questa replicabilità e scalabilità del modello di business la si ottiene con la tecnologia, con l'innovazione. Computer, processi automatizzati, tecnologie che permettono di, o anche semplicemente modelli di produzione che possono essere replicati. Per esempio i ragazzi di, come si chiamano, quelli di architetti, in realtà sono una startup, perché loro usano una tecnologia, che è l'architettura, per cercare di riabilitare mondi che non parlano con quella tecnologia in maniera innovativa, ok? E può essere scalabile, perché loro potrebbero immaginare di fare dei laboratori in diverse città o in diversi quartieri in maniera parallela, cioè non devono essere sempre loro a fare quella cosa lì. Quindi anche quella è una startup. Usano una tecnologia, l'architettura, per cercare di cambiare le cose, ok? Questo è quello che fa una startup. Quindi vediamo un attimo, allora, di rimettere un po' in fila le cose. Prima cosa, l'idea. L'idea è un qualche cosa che compare nella mente di una persona in genere. Ho un'idea, spesso le persone vengono a me, ho avuto un'idea, voglio fare questo. Benissimo, appunto, prima la ragazza della plastica riciclabile, biodegradabile, diceva, ho avuto un'idea, devo fare il salto e andare dall'altra parte del burrone, cioè lanciarmi e provare a realizzarla, quell'idea. Benissimo. Quindi l'idea è un qualcosa che nasce nella testa di una persona e quindi non è nulla finché non viene messa a terra. Di solito si passa attraverso una cosa che si chiama invenzione. Si fa un prototipo, si fa una tecnologia, si fa un modello, si fa un brevetto, un qualche cosa che si possa brevettare, qualcosa che non sia immateriale come un'idea, ok? Divento un disegno su carta, diventa un qualche cosa che coinvolge anche altri, non è più soltanto un'idea che sta nella mia testa. Incomincio a coinvolgere delle persone e ottengo un prototipo, per esempio. Ed ecco che compare il passaggio successivo. L'invenzione di per sé sta nel laboratorio, chiamiamolo così, è in un posto chiuso, isolato dal mondo, in condizioni ideali. Nel momento in cui io voglio far diventare questa invenzione, innovazione, devo portarla dentro un ambito più ampio in cui immagino, incomincio a lavorare, a come portare questa invenzione a terra, cioè diciamo sul mercato, nella società, per farla usare alle persone. E questo è il passaggio difficile, cioè fino a qui diciamo è quello che fanno le startup, ok? Hanno un'idea, fanno un prototipo, arrivano a diciamo costituire per esempio una società o comunque un'attività di gruppo, di imprese, eccetera, e hanno un'innovazione, un'innovazione che è un modello di business nuovo, che è basato su una tecnologia, su un software, su una macchina, su quello che volete, ok? Questo è il discorso. Come fa quell'innovazione a diventare valanga? Cioè appunto a diventare una cosa che riguarda tutti. Ovviamente questa è la valutazione più difficile, chiaramente dipende dalla bravura delle persone, dalle loro competenze, dalla capacità di lavorare insieme, gli elementi sono infiniti. Oggi abbiamo sentito anche chi ci ha parlato di come valutare, come trovare competenze, come fare per valorizzare le persone che sono in azienda, eccetera. Ma l'altra cosa che va considerata non sono, quindi ovviamente anche il prodotto, non è soltanto questo, ma è come poi quella innovazione viene trasferita all'esterno. E questo io ho visto è una cosa che spesso viene un pochino poco considerata. Appunto, come fa un'innovazione a diventare valanga? Io qui ho pensato un paio di esempi, ma ce ne sono stati in realtà, ne abbiamo visti anche in questo ultimo video alcuni e se ne possono fare tantissimi. Per esempio questa è la prima automobile, si chiamava Benz Patent Motorwagen, 1886, inventata dal signor Benz. Un attrezzo inutilizzabile di fatto, pericolosissimo, come vedete non ha niente davanti, non ha nemmeno un volante perché è una specie di leva per girare, è una specie di carrozza, non ha nemmeno un serbatoio nella sua prima versione, dovevano rincorrerla con un recipiente pieno di benzina per riempire il carburatore mano a mano che questa macchina, questo oggetto, questo attrezzo andava avanti. Le persone la vedono passare tutti terrorizzati, alcuni meravigliati, ma sostanzialmente dice che è questa roba, una cosa assurda, assolutamente inutile. Perché? Perché esisteva il cavallo, esisteva la carrozza, esisteva il treno, esistevano altri mezzi di trasporto. Non c'era nessuna necessità di questa tecnologia. Che ci facciamo con questa tecnologia? Puzza, è scomoda, è pericolosa, se questo prende una buca cascata in avanti vi ammazzate, c'è una serie di svantaggi terrificanti. Tant'è vero che questa cosa non funziona, non funziona per niente, non si vende, non la vuole nessuno, non gli interessa nessuno. Ma poi arriva, il signor Benz va in depressione, ma per fortuna ha una moglie molto 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 brava, molto intelligente, che capisce qual è il problema. E qual è la soluzione? Quale soluzione risolve questo oggetto? Questo è un cavallo che non si stanca mai. Bisognava esprimere questo oggetto in un linguaggio che fosse comprensibile a quell'epoca lì. A quell'epoca lì esistevano i cavalli, ma i cavalli si stancavano, perché bisognava fare dei cambi nelle stazioni di posta, poi c'erano tutta una serie di problemi, cioè che ovviamente se pioveva ci si bagnava, certo c'erano le carrozze, ma le carrozze erano scomodi, c'erano tutta una serie di problemi molto complicati. Allora cosa fa la signora Benz? Organizza un viaggio e va a trovare la sua famiglia che si trova a 90 km di distanza e torna in giornata, cioè fa qualcosa che per quell'epoca era impossibile da fare con la tecnologia esistente. In questo modo comunicando poi questa sua cosa, questa cosa che ha fatto, effettivamente spiega a che cosa serve sta roba qua. Cioè racconta e dice che cos'è questa novità. Se voi andate a guardare, in realtà questo meccanismo è comune a tutte le invenzioni, a tutte o meglio scusate le innovazioni che diventano disruptive, cioè che diventano una valanga. Ogni volta bisogna in qualche modo spiegare la novità in termini di linguaggio precedente, in termini di qualcosa che le persone capiscono. Bisogna costruire una metafora, cioè un'immagine, come diceva Gian Paolo Orsi prima, un'immagine che spieghi quello che fa l'innovazione. Se io non trovo un modo di spiegare a chi già usa altra tecnologia, la nuova tecnologia, che cosa serve e perché è meglio, io non riuscirò a far svoltare, diciamo a far diventare l'innovazione, a far diventare la mia startup, la mia modello di business, eccetera, qualcosa che diventa globale. Questo è un altro piccolo esempio, il keynote storico con cui Steve Jobs nel 2011 presentò il, no scusate non 2011, era il 2009, presentò il primo iPhone, ok? E qui cosa fece lui? Per spiegare perché aveva molto senso utilizzare un touchscreen, cosa che già esisteva a quell'epoca e lasciar perdere le tastiere che esistevano su tutti gli smartphone, perché anche quelli esistevano, era possibile leggere le mail sul telefonino, non era una cosa nuova, era possibile anche utilizzare una tastiera estesa sul telefonino, erano tutte cose già possibili. Lui dice la grande innovazione di questo iPhone è il fatto che lo possiamo utilizzare con il sistema di puntamento più avanzato che esiste. Qual è? Il dito. Questo è il passaggio chiave per cui questo oggetto diventa rivoluzionario. Infatti qui parla di revolutionary user interfaces, riferendosi al mouse, al podcast, scusate, al iPod e poi all'iPhone. Andiamo rapidamente avanti. In qualche modo la start-up deve divulgare la propria tecnologia, così come Piero Angela divulga la scienza, ok? Il lavoro di Piero Angela è un lavoro che in realtà poi serve alla scienza. tanti ragazzi, tanti che poi vengono a studiare fisica, magari lo fanno anche perché hanno visto Piero Angela. Quindi l'innovazione va raccontata con un linguaggio che già esiste. Questa è la grande cosa, diciamo, la cosa che io ho capito in questi anni di lavoro con le start-up. Questi sono altri esempi. Il modo come gli indiani americani chiamavano il treno, il cavallo di ferro, oppure come chiamavano il whisky, l'acqua di fuoco. Ecco, bisogna trovare un linguaggio che sia così. Bisogna trovare la metafora che faccia vedere il significato della novità, che faccia capire che cos'è la mia innovazione. E allora dobbiamo aggiungere alla definizione di start-up questa cosa, e cioè le start-up di successo, divulgano l'innovazione tramite una narrazione che in qualche modo la nasconde, perché non parliamo dell'innovazione, ma parliamo dell'uso che se ne fa, ma ne rende immediatamente comprensibili gli effetti. E questo diventa anche un modo per, in realtà, tutte le aziende, è un modello che in realtà può essere applicato da tutte le aziende, anche quelle più grandi, per quello che poi nel titolo ho messo questo come esito finale. Dicendovi questa riflessione in qualche modo finale, e cioè l'imprenditore in fondo è un visionario, è un qualcuno che vede al di là, che vede qualcosa che ancora non c'è. Ok? In qualche modo a me piace pensarlo come un appassionato di innovazione, come una persona che vede molto al di là del tempo, così come abbiamo visto nel video di prima degli esempi, Charles Babbage che immagina un uso diverso della macchina per fare del telaio automatico, così come quello che ha inventato il telaio automatico vede un uso diverso del Carillon per fare un telaio automatizzato. Quindi è un appassionato di innovazione e cerca quelle invenzioni che possono effettivamente modificare e cambiare la vita delle persone e deve trovare il modo di comunicare questa sua visione e questa innovazione che ha scoperto, che ha pensato di attuare, altrimenti la rivoluzione che lui ha immaginato non si realizzerà. Questo è quello che volevo portarvi oggi come contributo. Grazie a tutti e buona cerata.